Musica Con dei poteri Se si può dire così Questa mod si chiama La Movement Armor E vi aggiungerà Vari oggetti Tra cui elmetti Busti e scarpe Ma niente pantaloni Questo è uno dei primi oggetti Che si chiama Scuba Helmet Questo è il suo crafting Pelle e vetro schiacciato Ed è un elmetto da sub E vi permetterà di respirare Sott'acqua all'infinito Come vedete ci continua a muovere E non perdiamo bolle Questo ce lo portiamo dietro Il secondo oggetto Degli elmetti che vi voglio mostrare È l'helicopter head Ovvero un elicottero sulla testa Questo è il suo crafting Cambiamo elmetto E tenendo premuto semplicemente Il tasto del salto Vi salirà automaticamente L'unico problema È l'atterraggio Quando atterrerete in punti più alti Vi potrete fare veramente male Questi invece sono i Giubbotti E iniziamo da questo qua Il glider Ovvero il planatore Questo è il suo crafting Questi oggetti si possono attivare Alcuni tenendo premuto direttamente spazio Come l'elmetto Altri invece dovrete utilizzare Un tasto preimpostato Che io ho impostato sulla E Però è impostato sulla F Quando metterete la mod Ma io sulla F Tengo l'inventario Ora direte Se io mi butto di qua Morirò E invece vi faccio vedere Che con il glider Io arriverò a terra Senza farmi male 3,2,1 Via Semplicemente l'ho lasciato Poco prima Perché Mi ha fatto una laggata assurda Comunque avete visto Io se fossi saltato senza il glider Sarei morto Questo qua Me lo tengo Questo lo togliamo Anzi no Adesso vi faccio vedere Un secondo oggetto Di cui non avremo bisogno L'helicopter head Ovvero il jetpack Questo si crafta con il glider E questo è il suo crafting Lingotti di ferro E la verga del blaze Vedete È come l'helicopter head Solo molto più veloce Ora mettiamolo giù Questo è il paracadute Stessa cosa del glider Solo che andrà molto più lento E non vi farà spostare più di tanto 3,2,1 Via Acqua Ole Atterraggio in acqua Ora risaliamo di nuovo Togliamoci questo Anche perché ora Non dovremo più risalire Visto che vi faccio vedere L'ultimo giubbotto Offerò il giubbotto Di salvataggio Che si crafta Con qualsiasi tipo di lana Messo Come se fosse Un'armatura normale Ora mi butto in acqua E vi farò vedere Cosa succede Noi galleggeremo Senza dover Tenere premuto Nessun tasso Molto utile Per chi fa Viaggi in mare Questo è il primo Degli scarponcini Questo è il Mountain Bike E il Mountain Boots Scusate E si crafta con Due di ferro E gli scarponi Normali di cuoio Ora vi faccio vedere A cosa servono Questi scarponi Ci permetteranno Di scalare Qualsiasi parete Ovviamente Il problema È sempre L'atterraggio Comunque molto utili Se utilizzati In coppia Con vari oggetti Tra cui Il glider O il paracadute Molto meglio Il paracadute Secondo me Comunque Che almeno Andiamo più lenti Questi sono Gli hails Sono degli scarponcini Che ci faranno andare Molto più veloce Del solito Di quando corriamo Questo è il suo crafting Ora vi faccio vedere Questa È la camminata Normale Questa È la corsa Ora vi faccio vedere Cosa succede Con gli hails Guardate Correremo Velocissimo Come se avessimo La pozione Di velocità Ora Sono anche Abbastanza Inutili Sinceramente Cioè io Non li crafterei Mai Sinceramente Questi sono i flippers Sono degli scarponcini Che ci faranno andare Molto più veloce In acqua Usati insieme Allo scuba helmet Sono una Una gran cosa Ora voi direte È tutto normale E invece no Stiamo andando Più veloci Come se camminassimo Normalmente Fuori dall'acqua Ora vi faccio vedere La differenza Ehi Al tuo posto Vedete Camminiamo Molto più lento Comunque Un'utilità Parziale Questi invece Sono i migliori Di tutti I sprinting boots Spring Eh Spring boots Si craftano Con il pistone E gli stivali E questi scarponcini Vi faranno fare Dei salti Altissimi Olè Scelio su Sono già Due blocchi D'altezza Solo così Ma È perché sto registrando In realtà Quando voi Non mettere Non starete registrando Questi vi faranno fare Dei salti Ancora più alti Comunque Anche se Il registro Sono comunque Due blocchi D'altezza Ed è una buona cosa Sinceramente Questi sono gli ice skates Ovvero I pattini da ghiaccio E servono per andare Molto più veloce Sul ghiaccio Ora vi faccio vedere Questa è la velocità Che camminiamo sul ghiaccio E scivoliamo Ora vi faccio vedere Cosa succede Se corriamo Sul ghiaccio Con questi Scarponcini Visto? L'abbiamo preso Su una velocità Questi invece Sono i due oggetti Che questa mod Vi aggiungerà Uno è un cibo E uno è un oggetto Da lancio Questo è il Grappling hook Ovvero Il L'uncino Per aggrapparsi Si crafta come se fosse Un piccone di ferro Solo che infine Dovrete mettere La corda E' come se fosse Un ender pearl Solo che potrete usarlo Molte più volte E ovviamente Si consumerà E invece L'ultimo oggetto Ovvero il cibo E' Una banana Utilità Zero Perché non si sa Dove si trovi Quindi Banana Da questo video E' tutto Questi sono gli oggetti Che questa mod Vi aggiunge Io come Come utilità Questa mod Do un livello Molto alto Su una scala Da 1 a 10 Io gli darei Un bel 8 e mezzo Perché comunque Non dico che pesa Però alcune cose Sono un po' Difficili da trovare Come la verza Del Il maiale Che intanto Mi fissa Al culo La verza Del blaze Comunque Non è facile Da trovare Dovrete andare Nel nether E comunque E' una rottura Di palle Scusate Mi si era bloccato Un tasto E comunque Anche il fatto Della banana Che non si sa Dove si possa trovare E' abbastanza Stupido Si potrebbe Correggere un po' Questa cosa Comunque Molto bella Questa mod Io ve la consiglio Il download E' sempre In descrizione Lì sotto Vi saluto Tutti Ci vediamo Al prossimo video Ciao belli Ciao belli